Come? Molto male, la tua natura è pura, fate spaccarla con un gesto signore. Dall'inizio dei tempi gli elfi combattono queste forze. Se tu sceglierai la loro via, ti allontanerai dalla sacra luce della sterla di Corretti. Però la sua offerta sembrava per un bene più grande, sembrava per la pace. Decidi bene quello che farai. Una volta altri elfi hanno fatto scelte sbagliate e ne pagheranno in eterno. No, non vorrà mica diventare come uno dei tuoi cugini, vero? C'è vero? Però, maledetti, ora si rimascondono le loro bugie caverne e pregono la loro dannata dignità. No. Tradito tutti quanti. Per quello mi sono rivolto a voi. E avevo un forte dubbio. Per quello chiesto il vostro aiuto. Per non allontanarmi dalla vostra sala. È strano che un elfo chiede l'aiuto dei propri dèi. Un elfo dovrebbe chiedere, credere ciecamente, non siamo umani. Mai lo sappiamo. Che noi siamo la stirbeletta, antichi, sin dagli arbori del mondo. Eppure tu hai avuto dei dubbi. Significa d'oro. Che la tua fede vacilla. Questo non è bene per la corte elfica. Adesso non più. Ti chiedo solo una cosa. Che cosa? Che sia una freccia dal mio arco a sconfiggere il nostro nemico. No. Tu chiedi molto. No. Devi sapere. O meglio. Che gli elfi. Chiedo la forza per combatterlo. Noi divinità vogliamo essere adorate. Perché noi rappresentiamo l'essenza della tua razza. E tu ci stai piano piano voltando le spalle. Ti chiediamo quindi. Non che per noi sia necessario. Di ricordarti i principi della corte elfica. Obedire alle leggi degli elfi. Vivere nel nome dei tuoi dèi. E non dimenticarti mai. Chi sei. Fai parte della grande stile. Non ti allontanare più dal suo cammino. Mi inginocchio. Tieno il capo. Chiedo perdono per aver vacillato. Dovrai pregare più spesso. E che non capiti un'altra volta. Gli altri hanno detto il giusto. Non capiti più. Che la prossima volta potresti incappare nel giudizio del saccore. Che da voi venga la forza perché io non vacilli. Ricorda quello che ti ho detto. Prega per noi. Non dimenticare i tuoi sacri doveri. Come elfo. E come figlio del popolo delle stelle. Ricordati sempre. Sì. Ora vai. E quelli. Il congelato. Perché? Il congelato.